Mettere i generali soldati e i soldati generali. Testimonianza di Antonio Giraudo, detto Tony de Touniun, nato a Rocca Sparvera, classe 1883, contadino. Avrò avuto 16 anni quando sono andato la prima volta in Francia. Qui c'era solo miserie. D'autunno andavo in Francia per guadagnare quattro soldi. Poi tornavo, toccava donarli a padre e madre. Quando sono venuto in qua dalla Francia a tirare il numero, avevo 30 lire di risparmio. Guadagnavo 30 soldi al giorno a lavorare all'arsenale, alla segna di Tolone, dove scaldavo i ribattini, fabbricavamo bastimenti. Alla visita militare mi hanno fatto rivedibile. Ero gracile, gracile, ero troppo smilso. Quando sono partito per l'America? Beh, sono dell'83, fate voi il calcolo di quando avevo 22 anni. E là c'erano due del Castelletto, una frazione di Rocca Sparvera. Due uomini sposati, quelli del Trapunè. Mi sono partito con due donne. Una era quella de Giacu, che aveva già il suo uomo in America. L'altra donna era l'Angiulina de Blin. Siamo andati a piedi fino a Nizza, poi in treno fino ad Avro. Da Genova il viaggio era più lungo. Il viaggio l'ha pagato mio padre. È andato a prendere a prestito i soldi, 400 lire. Ad Avro c'era il bastimento, ben caricato, completo. Uomini, donne, bambini. Cosa pensavamo durante il viaggio? Pensavamo quello che si pensa quando si va in guerra. Più che morire non arriva. Arrivato in America, in un'osteria piemontese, il padrone mi ha donato un salame grosso così. Non l'ho potuto mangiare, era troppo salato. L'ho buttato nel cesso. Oh, Cristo, che rabbia! Il padrone ha capito che ero io, l'aveva solo donato a me il salame e il cesso che non funzionava più. Siamo arrivati a San Francisco diretto. Abbiamo passato il Mississippi. Lei l'ha già visto il Mississippi? Ah, sa dov'è? Quello sì che è un fiume che ci monta il treno sul bastimento e poi passa di là. Noi siamo andati a lavorare alle mine, cioè le miniere, dove si fabbricava una specie di lago. Lì uno è saltato per aria. Più che italiano non poteva essere. C'era tutte le razze di gente. Giapponesi, indiani, di tutto. Oh, sono ancora più bravi di noi. Io non ho mai avuto da dire niente con nessuno. Ho girato tutto il mondo, si può dire. Sono andato in Germania, in Francia, un po' dappertutto. Non ho mai fatto un debito di soldi, un debito di pane o di qualunque roba. Ho sempre pagato tutti. Ho sempre lasciato stare tutti. Mi trovavo tranquillo, come un angelo. A New Orleans, sotto San Francisco, mi ricordo nemmeno più che lavoro facevamo. Facevamo mine in una perriera, in una cava di pietre. Eravamo tre della rocca, Catu de Bion, Pinotu de Titot, Ninu del Matè e c'erano anche Dinu de Censu, Drea de Cristina, Giursin de Cristina. Poi abbiamo disfatto la banda, cioè la combriccola. Poi sono andato a lavorare alla ferrovia, a sistemare binari, sotto un'altra impresa. Guadagnavo dieci lire il giorno, due dollari. Mica fatica, oh, lavoravamo di notte. C'era un trenino, caricavamo il materiale sui vagoni e lo scaricavamo in un precipizio. Sono mica stato tanto in America. Pativo, avevo nostalgia della fidanzata lontana. Sono stato un asino fatto completo, eppure è stato così. Oh, non parlatemene. Ai ai, ne ho fatta una e quando sei giovane sei giovane. Sono ancora pentito oggi di essere tornato dall'America. Sono pentito come di capelli che ho in testa. Avevo un po' di soldi. Li ho portati qua. Sono andato in banca a Cuneo. Non mi hanno mica dato l'agio. Mi hanno truffato sul cambio. Alla buonanima di un povero diavolo. Avrei potuto almeno tenermi un dollaro o due. E invece ho dato via tutto. Alla Rocca ho ricominciato a lavorare la terra. Mio padre non lavorava più, ma lo rispettavo. Gli ho sempre portato rispetto. Mi sposo e poi viene la guerra. Ho fatto la guerra anche. Ero riformato da recluta, ma per la guerra 15-18 mi hanno messo negli Alpini. Ero sul Trentino, che dovrebbero darci la pensione. E invece ci danno solo dei paternoster, ossia il cavalierato di Vittorio Veneto. Ero in trincea e aspettavo che venisse il nemico. Avevamo un capitano che aveva ancora più paura di noi. Barberis. Segna male. Promette male. E ci siamo dati prigionieri. Prigioniero degli austriaci. E abbiamo sempre girato. In Prussia, con Ciotte di Tinella, Giursin, Deramin, Mauret, mio cugino, Valentin. Ho lavorato in una miniera di ferro. Accottimo. Dopo la guerra torno a lavorare in campagna. Mio padre era morto. Lavoro due o tre scarse giornate di terra. Un po' di bosco. Allora le castagne valevano, ma rendevano poco. Rimedio da mangiare. Ne ho avuto 13 figli. Sei maschi. Due sono rimasti in Russia, negli Alpini, morti. Sono stati gelati. E sono stati che hanno voluto stare, poveracci, Sebastiano e Matteo. Matteo pativa talmente il freddo. Bastiano incontra l'erda, il ciclista di Borgo, nella ritirata. E gli dice, vado ancora a vedere Matteo che patisce tanto il freddo e poi vengo. Va, trova Matteo morto. È caduto come una pera. Anche lui morto. Dei figli rimasti in Russia. Ho lavorato in una miniera di ferro. Accottimo. Il minatore si strappava, faticava come un assassino. Bestemmiava come una mula. Io avevo un Cristo di un picco che sarà stato un miria. Tra me e lui non ci saremmo guadagnati il vitto. Oh, povera gente. Dopo la guerra torno a lavorare in campagna. Mio padre era morto. Lavoro due o tre scarse giornate di terra. Un po' di bosco. Allora le castagne valevano ma rendevano poco. Rimedio da mangiare. Ne ho avuto tredici figli. Sei maschi. Due sono rimasti in Russia. Negli Alpini. Morti. Sono stati gelati. E sono stati che hanno voluto stare. Poveracci. Sebastiano e Matteo. Matteo pativa talmente il freddo. Bastian incontra Lerda, il ciclista di Borgo, nella ritirata. E gli dice. Vado ancora a vedere Matteo che patisce tanto il freddo. E poi vengo. E' caduto come una pera. Anche lui morto. Dei figli rimasti in Russia non ho mai saputo niente. Più niente. Più niente. Matteo, alla vigilia di partire per la Russia, mi fa. Padre, io parto. E io. Fatti furbo. Hai nient'altro da fare che farti furbo. Qui sai quello che c'è. Piuttosto di lasciarci la pelle, hai solo da scappare. No? Più che giusto. Lui è morto di fronte all'altro Bunumas. Sì, sì. Partire per la Russia doveva partire. Ma come c'è stata la rivolta e si sono scappati tutti. Non avevano che da venire assieme agli altri. Lerda è venuto. Era camionista. E' stato fortunato. Ma se io sapevo dov'era la Russia. Pazienza l'America. Nemmeno i figli sapevano. Noi. Io non l'avrei poi aggiustata così. C'è la lerda che ti caricava sul camion. Lasciavo Matteo là che si aggiustasse anche lui e almeno ne veniva ancora a casa uno. Pensavo sempre. Non tornano più il freddo. Matteo non poteva sopportare la Russia. Bah. Ma. La vita di oggi, è un mondo mal fottuto. Mal combinato. E che non c'è più nessun rispetto di niente. I giovani comandano i vecchi. Marca male. Marca che i vecchi non venissero tanto vecchi. Sarebbe meglio. Sì, sì. Vanno nella luna. E temo che con il loro troppo progresso, che quella luna lì possa portare danno alla popolazione della Terra. Che un momento o l'altro succederà ancora qualche diavolo. Beh. A forza di pestarla quella luna. Sì, sì, sì. Ci credo che vanno sulla luna. Mia moglie non ci crede. Io credo invece. Credo come dicono i preti. Bisogna credere e non vedere. È giusta questa qui. Questa qui è giusta per loro. Per me non è mica giusta credere e non vedere. Io credo che dopo me ci sia un bel zero. Quel che ho visto, ho visto. E... voglio altro che dire. È solo una camorra quella lì. Non vada poi a dirlo al prete. Oggi la gente basta che uno possa mangiare l'altro. Una volta la gente dribolava ma era tranquilla. Adesso se uno ha quattro soldi non bisogna dirlo. Basta leggere i giornali. Il governo? A mio giudizio bisognerebbe toglierli e metterli loro al posto dei poveri diavoli. Eh... a lavorare. Mettere i generali soldati e i soldati generali. Più che giusto. Una volta fanno uno scandalo. Poi un altro scandalo. Poi un altro. Ma quelli là li mettono in tasca e non li tirano mica più fuori. Non soltanto sempre i medesimi che insaccano, che rubano. E Saragat? Saragat è un bravo uomo. Fino a oggi è andato avanti a calci in culo. Ma di guerre non ne ha ancora fatte fare nessuna. Se vado a votare? Sicuro che vado a votare. Volessero ben mettermi sindaco non accetterei. Chi è senza istruzione ha solo da stare zitto. I giovani di oggi che lasciano la campagna per andare giù a lavorare in fabbrica vanno a rubare il pane agli altri. E tutto questo è brutto. Chi resta a lavorare la campagna? Hanno solo da pagare giusto le patate e il resto. E la gente giovane resterebbe a lavorare la campagna. Grazie a tutti.